Una manifestazione di interesse per la creazione di un catalogo di iniziative e attività da realizzare presso il Real Albergo dei Poveri. Dopo anni di degrado e abusivismo, è stata approvata in giunta comunale la delibera dell'accordo con la Regione per creare nuovi contenuti e funzionalità per Palazzo Fuga. Le proposte dovranno prevedere percorsi, workshop, eventi culturali o esposizioni per innescare processi di rigenerazione comunitaria e territoriale. È una chiamata alle idee fondamentalmente, l'apertura di una conversazione che è un primo passo naturalmente di una serie di altre iniziative che noi porteremo avanti nel corso dei prossimi mesi, che sono tutte rivolte appunto a condividere con la città, con interlocutori diversi naturalmente, questo grande progetto che è legato a due grandi temi che sono i temi cari al sindaco e che hanno poi animato e informato questa strategia. Da un lato le nuove generazioni, quindi è un progetto che è rivolto ai giovani e dall'altro lato, anzi direi insieme, è un progetto che è rivolto alla conoscenza e alla cultura nelle sue forme più variegate, sia alle culture naturalmente contemporanee, alle culture urbane a cui i giovani fanno riferimento, ma anche naturalmente alla produzione culturale e artistica che diciamo poi è un mondo molto interessante sia in città ma anche noi naturalmente di questo siamo convinti rispetto a un'audience internazionale. L'avviso si rivolge a soggetti pubblici e privati per l'esercizio di attività culturali, sociali e simili, tra cui istituzioni, imprenditori, associazioni ed enti per il terzo settore e si inserisce in una strategia di valorizzazione e rigenerazione urbana di uno degli edifici più grandi d'Europa nel centro storico della città di Napoli, inserito dal 1995 nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. L'intervento rientra anche nel nuovo indirizzo dato dall'amministrazione comunale a luglio per disciplinare gli usi temporanei per gli spazi pubblici e gli immobili di proprietà pubblica. Gli usi temporanei sono un modo che le città oggi usano per attivare delle trasformazioni, per testarle, per aprire a usi e a progetti che hanno, come dice la parola stessa, una durata limitata nel tempo, ma che sono un po' delle prove di innovazione. Questa è una strategia che ha dato dei risultati molto interessanti nelle grandi città europee. Si tratta di progetti che possono avere una durata molto breve, fino a una durata media, diciamo dai tre anni rinnovabili fino a due, ed è una strategia alla quale noi teniamo molto, intanto perché con gli usi temporanei i luoghi vengono resi accessibili alla città, soprattutto i luoghi che sono rimasti chiusi per molto tempo. E poi perché, ripeto, sono delle pratiche di esplorazione di un potenziale di trasformazione dei luoghi che in questo momento magari non è ancora visibile a tutti, ma che attraverso questi progetti può diventare una pratica diffusa ed è per questo che per noi si tratta di una strategia particolarmente importante.